Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo, buonasera bentornata Lina Palmerini, nottista politica del sole 24 ore, buonasera Pino Corrias, giornalista e scrittore, buonasera Beppe Severnini, editorialista del Corriere della Sera, e buonasera Lara Lugli, pallavolista citata per danni dalla sua società sportiva per essere rimasta incinta. Una vicenda incredibile. Lara Lugli, senta, e poi c'è anche l'Italia, come la vogliamo chiamare, altro che oscura, l'Italia medievale, la sua vicenda. Allora lei è stata citata in giudizio per danni dalla società sportiva per la quale lei giocava come pallavolista di punta e martedì prossimo lei dovrà presentarsi a Pordenone in tribunale. Mi dice qual è il crimine del quale viene accusata? Il crimine è rimanere incinta durante l'attività agonistica a questo punto. Loro hanno detto e scritto che tale comportamento configura grave inadempimento contrattuale e precontrattuale che ha conferito un danno ingente alla società in termini di punti persi in classifica, in termini di sponsor che hanno abbandonato la sponsorizzazione e hanno paragonato la gravidanza a un comportamento illecito o dannoso comparandolo all'assunzione di sostanze superfacenti, di alcol, insomma un comportamento illecito. In più io ho richiesto che mi fosse corrisposto la mensilità precedente per la quale avevo pienamente lavorato, svolto il mio lavoro, giocato, mi ero allenata, quindi quando ho fatto richiesta di questa ultima mensilità mi è stata negata, quindi insieme al mio avvocato e al mio manager abbiamo proceduto insomma con un'ingiunzione di pagamento. Ma Beppe Severnini è una storia vergognosa, nell'Italia del 2021 dobbiamo avere una campionessa sportiva che è citata per danni perché è rimasta incinta. È una storia vergognosa, però vorrei provare a spiegare proprio in due parole come può accadere perché Lara ha fatto bene a venire qui, ne parla, molti lo sapranno stasera, conosceranno questa storia, l'avevo sentita qualche tempo fa. Lara mi corregga se sbaglio, cioè funziona così che in Italia ci sono solo quattro federazioni che prevedono professionisti, il calcio fino alla Lega Pro, il golf, il ciclismo su strada e il basket di serie A e solo maschili. Quindi Lara e tutte le sue colleghe sono dilettanti, dilettanti che hanno diciamo le garanzie dei dilettanti, cioè nessuna, uno rimane incinta e si trova fuori perché non hanno le protezioni di un professionista, i loro contratti di lavoro sono di fatto delle scritture private. Ho capito bene? Quindi il problema non riguarda solo lei, devono ripensare completamente lo sport femminile. Sì, certo, lo diciamo, lo abbiamo detto anche qui in questa trasmissione tante volte, non si capisce bene perché non si proceda in modo veloce, Lara, anche perché si discute soprattutto in queste settimane tantissimo di diritti, ma appunto il caso come il suo ci riportano alla preistoria dei diritti. Intanto qualcuno le ha chiesto scusa? Allora, devo dire che all'inizio sono stata anche felice di aver ricevuto le telefonate del presidente del CONIM Malagò e del presidente della federazione Pallavolo Manfredi. Sono stata felice ma poi dopo queste telefonate private non hanno avuto un seguito, in quanto insomma non c'è stata nessuna esternazione pubblica, nessun comunicato stampa ufficiale che abbia dato seguito a questa telefonata. Ma io non lo so, si sono definiti tutti indignati, ma se uno va sul vocabolario alla parola indignazione c'è scritto risoluta ribellione a quanto offende la dignità propria o di altri. Allora io di risoluta ribellione non le ho viste, ho visto solo appropriarsi di questo termine. Io ho manifestato risoluta ribellione, io e le associazioni che mi hanno dato credito, Assist, l'associazione italiana Pallavolisti, la prossima candidata alle elezioni del CONI, Antonella Bellutti, questi si sono ribellati a questa cosa, ma il resto... Quindi la prossima Antonella Bellutti sarebbe corre per essere la presidente del CONI, una donna? Sì, esatto. Finalmente sarebbe, per la prima volta. Ma non è tanto questione di una donna, che porta degli argomenti importanti. Senta, Lara, ma lei come pensa che andrà a finire martedì prossimo in tribunale? Ma come andrà a finire? Ognuno di noi esporrà le proprie parti, il giudice, secondo la legge, dovrà tentare la conciliazione, ma io spero che ci sia una sentenza favorevole, perché questo creerà sicuramente un precedente, e non voglio pensare a un precedente negativo su una situazione del genere. sarebbe veramente una cosa assurda, oltraggiosa per tutti. La monitoriamo, la monitoreremo anche qui da otto e mezzo. Pino Corrias, Severnini e Lina Palmerini. Sì. Sì, ma io la trovo sorprendente, perché la pallavolo è un gioco magnifico ed è un gioco di squadra. I dirigenti di quella squadra non sanno cosa sia, il gioco di quella società non sanno cosa sia il gioco di squadra. consiglierei a Lara o di cambiare i dirigenti della società o di cambiare squadra, perché così è veramente disarmante. Guardi, io voglio precisare una cosa, non è solo il caso Lara Lugli, ma ce ne sono state tantissime altre, i vent'anni che succedono queste cose. È venuta fuori adesso perché io ho avuto questa forza d'animo, perché mi sono voluta ribellare, però io posso capire anche le altre ragazze a cui è successo che non hanno fatto nulla, perché mettere in piazza comunque le proprie cose private, non è facile andare nelle lungaggini burocratiche giudiziarie, comunque dover sostenere delle spese, perché devi sostenere delle spese, metterti sotto il giudizio di tante persone, non è assolutamente facile. Io capisco le ragazze che non l'hanno fatto, però a un certo punto, insomma, io credo che non si può sempre abbassare la testa, e ogni tanto qualcuno le cose le debba dire. Credo che tirando fuori questa sporcizia da sotto il tappeto, che tutti nascondevano lì sotto... Proprio sporcizia, Lina Palmerini, in un paese che si dice moderno e democratico, che rispetta i diritti. No, ma infatti lei ha colto il punto, perché il problema è che lei si è ribellata, perché non è che esista soltanto il suo caso, ne sono esistiti, probabilmente ne esisteranno, forse ne esisteranno meno con questa denuncia, perché poi alla fine i cambiamenti vengono prodotti dai casi concreti, cioè dagli esempi che poi creano scalpore, quindi dobbiamo ringraziarla per averci messo la faccia, come si dice. Io mi auguro proprio questo, che le ragazze a cui è successo, o che succederà, io spero nel breve termine, perché spero che non ce ne siano altri di casi, trovino, insomma, con il mio caso, hanno visto che io sono stata supportata da così tante persone, che insomma trovino anche loro la forza di ribellarsi a questo, perché non è giusto. Severnini? Dovrebbero festeggiarla. No, volevo solo dire a Lara, che Lara lo sa, però lo diciamo ai nostri telespettatori, che i colleghi maschi e pallavolisti di A e di B si sono presentati mettendo il pallone sotto la maglia, così avevano la pancia anche loro, che mi sembra una cosa molto bella che hanno fatto per sostenerla, perché comunque riguarda tanti sport. Aggiungo, io, Lara, ho sposato una pallavolista, giocavo in Serie B, andavo sempre a vederla giocare, e quindi sono Hortensia, una pallavolista, Lilli, e sono molto solidale anche per questo, ma non solo, naturalmente. Ma naturalmente non solo. Noi comunque siamo qui, Lara, e continueremo a seguire la sua vicenda. Un grande in bocca al lupo.